Ciao amici ed amiche di youtube, bentrovati a questa puntata del cielo della settimana la quale tengo particolarmente perché parleremo della luna nuova in scorpione una luna nuova molto potente ma prima di entrare nel vivo io vi devo ringraziare perché la settimana scorsa abbiamo lanciato il link per prenotare il libro e siamo stati sparati al primo posto della top 100 di amazon un risultato che non avevamo mai neanche sfiorato e io sono convinto che in gran parte dipenda anche da questa nuova grande famiglia di youtube che ci ha messo il suo grazie infinite e qui sotto trovate ancora il link per prenotare il libro che vi ricordo uscirà con la luna piena dell'8 novembre ma noi entriamo nel vivo di questa puntata ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella e se siamo pronti partiamo allora io direi di entrare a bomba nel tema della settimana tema che cogliamo con un certo anticipo perché sarà un tema importante ed è la luna nuova in scorpione che sorgerà nella tarda mattinata di martedì 25 ottobre ne parliamo con un certo anticipo perché è una luna nuova particolarmente importante e quindi bisogna arrivarci anche un po' preparati innanzitutto sapete benissimo che la luna nuova è il fischio d'inizio è lo start di un nuovo ciclo lunare e in particolare questa è la luna nuova che si forma nel cuore dell'autunno che è una fase di preparazione per definizione per cui è una luna nuova che permette di sbloccare tutta una serie di situazioni ma soprattutto di mettere in campo delle novità e delle nuove iniziative che poi troveranno la loro realizzazione nella prossima primavera 2023 perché? perché la luna nuova in qualche modo è come un seme e quindi qualcosa di piccolo, di poco visibile ma che ha un grandissimo potenziale di crescita ciò che seminiamo alla luna nuova e quindi nelle giornate di luni di 24, martedì 25 e mercoledì 26 assume poi dei connotati più chiari 14 giorni dopo con la luna piena, in questo caso l'8 novembre e su una base più larga 6 mesi dopo e in questo caso con la luna piena in toro del 5 maggio del 2023 per cui ciò che seminiamo in questo momento perché la luna nuova è anche il cielo più fertile proprio per iniziare cose nuove vedrà dei primi connotati più chiari, più formati, più evidenti già tra 14 giorni ma soprattutto porterà dei risultati di lungo corso tra 6 mesi ai primi di maggio del 2023 è una luna nuova particolarmente importante e lo vedremo perché? perché innanzitutto è il momento migliore del mese per seminare qualcosa di nuovo per fare qualcosa di nuovo per consegnare dei nuovi propositi al cosmo che in questo momento ci ascolta più che mai per cui è più fertile che mai ad accogliere dei nuovi propositi e poi soprattutto perché è una luna nuova che si inserisce in un discorso che è iniziato già a fine settembre che stiamo costruendo di settimana in settimana e che ha molto a che fare con il tirare fuori quello che abbiamo dentro con il dare voce a quelle che sono le nostre verità più profonde partiamo però andiamo per gradi partiamo dicendo col fatto che la luna nuova rappresenta un inizio e molto è legato al segno in cui si forma in questo caso il segno dello scorpione che è uno dei segni più complessi più interessanti per certi versi e più difficili da decifrare per altri dell'intero zodiaco perché? perché lo scorpione è il segno delle profondità per capire come funziona lo scorpione dobbiamo osservare il comportamento della natura nel suo mese che è il mese di novembre che fa la natura a novembre? prima cosa cadono le foglie per cui si spoglia di tutto quanto rimane nuda e quindi sembra per certi versi ferma ma così facendo prepara il campo perché qualcosa di nuovo possa iniziare quindi la prima il primo insegnamento dello scorpione è quello dei cicli di morte e rinascita necessari per la rigenerazione quindi il primo insegnamento di questa luna nuova è eliminare tutto quello che ha fatto il suo tempo che sta lì solo per abitudine che sta lì solo per inerzia come le foglie secche sugli alberi per fare il posto a qualcosa di nuovo ed è un processo che a volte non è facile ma che è essenziale e indispensabile perché qualcosa di nuovo possa apparire per cui la prima cosa che questa luna nuova ci porta a fare è a tagliare i rami secchi che si tratti di iniziative che ormai non ci corrispondono più di progetti che non ci somigliano di rapporti che sentiamo ormai basati solo sulle convenzioni qualunque cosa sia è un momento proprio di grandi pulizie stagionali in certi casi basta veramente poco basta aprire gli armadi e buttare fuori tutto quello che non indossiamo più basta semplicemente fare un po' di pulizia perché questo serve veramente a creare uno spazio che possa poi essere riempito da qualcosa di nuovo guardate che la vita è una scala di rifrazioni dove l'astratto e il concreto si somigliano per cui se io apro gli armadi e butto quelle felpe delle medie che non metto più da 30 anni ma che tengo soltanto per una nostalgia che non trova più attualità in qualche modo sto facendo un lavoro anche sul piano interiore che è quello di cambiare pelle e questo è qualcosa che tutti noi dovremmo fare soprattutto i segni fissi il toro, il leone, lo scorpione e l'acquario che prima di lasciare andare ci mettono tantissimo per cui questo è il primo punto il secondo punto sempre legato allo scorpione è che nel mese di novembre la natura sembra assolutamente spenta sembra assolutamente inattiva ma non è vero perché in realtà la sua attività si svolge al di sotto della superficie dove non vediamo e l'altro insegnamento dello scorpione è proprio questo che le apparenze sono solamente un pallido riflesso di quello che si muove più in profondità è lì che ci sono le radici è lì che bisogna andare per arrivare all'essenza e quindi lo scorpione la luna nuova in scorpione si spinge a scavare ad andare oltre le apparenze per capire come stanno realmente certe situazioni per cui se c'è qualcosa che ancora non abbiamo capito che non ci quadra ci spinge ad indagare ma soprattutto ci spinge ad andare al sintomo alla radice reale di certi comportamenti senza fermarci a curare il sintomo e quindi tutta una serie di autoanalisi tutta una serie di situazioni che ci portano a scavare dentro di noi per non fermarci all'apparenza ma capire da dove nascono certi comportamenti certi copioni certe situazioni nelle quali rigadiamo continuamente senza fermarci appunto alla superficie dove in realtà si svolge un teatrino che è solamente il riflesso di quello che si svolge più in profondità pensate alla caverna di Platone pensate alle idee che sono solamente di cui cogliamo solamente un pallido riflesso nella vita di tutti i giorni lo scorpione ci porta a scavare ad andare a fondo a togliere il velo e a capire come stanno le cose più in profondità e questo è probabilmente l'aspetto più importante di questa luna e quindi tutto ciò che non ci quadra tutto ciò che non abbiamo capito bene tutto ciò in cui ci ritroviamo costantemente invischiati la luna nuova in scorpione ci spinge proprio a mettere un punto andare più in profondità e a cercare di risolverlo dal di dentro da questo punto di vista è una luna nuova estremamente importante e si ricollega strettamente alla luna nuova in bilancia del 25 settembre con la quale ha moltissimi punti di contatto perché è come se qualcosa che a fine settembre per noi era importante da smuovere da capire meglio da rimettere in pista avesse avuto bisogno nel frattempo di una maggiore attenzione di analizzare meglio certi dettagli di capire meglio certe dinamiche per poter essere rimessa in pista a fine ottobre 24, 25 e 26 con una consapevolezza maggiore dopo aver capito certe dinamiche che ad una prima magari colti anche da un entusiasmo in una logica più superficiale c'erano sfuggite per cui tornate con la mente a ciò che era importante alla fine di settembre perché è possibile che vi siate scontrati con dei muri che abbiate incontrato degli ostacoli che abbiate incontrato delle situazioni che non erano esattamente come ve le aspettavate e adesso tra il 24, il 25 e il 26 di ottobre c'è la possibilità di rimetterle in pista però con una consapevolezza maggiore ad evitare certi errori ancora guardando queste due lune nuove quella del 25 di settembre e quella del 25 di ottobre c'è un altro aspetto di contatto che è estremamente interessante entrambe queste lune nuove formano un aspetto significativo e particolare con Plutone che è il pianeta della paura laddove la luna nuova del 25 settembre sorgeva ai primi gradi della bilancia e formava un trigono con Plutone agli ultimi del Capricorno ma in segni di per sé in quadratura questa luna nuova forma ai primi gradi dello Scorpione una quadratura con Plutone agli ultimi gradi del Capricorno in segni di per sé non quadrati ma se stili questa è una cosa che solamente chi ha un po' di rudimenti di astrologia può cogliere fino in fondo però per spiegarvela meglio il concetto della luna nuova del 25 settembre è inizia a tirare fuori quello che hai dentro anche se comporta una certa fatica e questa luna nuova dice inizia ad andare a fondo a scavare a guardarti meglio dentro a non fermarti alle apparenze a comprendere la radice di certi comportamenti anche se costa fatica sono unificate da un comune denominatore che è quello che dice da qui può derivare veramente un nuovo inizio cioè qui c'è la possibilità di scardinare alcune dinamiche di superare alcuni blocchi di superare alcuni freni che ci tengono ingabbiati da tempo e che creano una ferita dell'identità cioè che non ci permettono di tirar fuori di esprimere quello che abbiamo dentro per cui è una posta in gioco veramente altissima che punta ad un 2023 che un po' per tutti i segni è un anno di liberazione e di libera espressione per cui tutto quello che in questo momento rappresenta nella nostra nella vostra vita un vincolo un freno un blocco è il momento proprio di andare a fondo e di cercare di scardinarlo non solo questa luna nuova si forma in perfetta congiunzione con venere e questo mi fa pensare ancora una volta che sia una luna nuova che tocca soprattutto i rapporti interpersonali cioè tutto ciò che finora non siamo riusciti a dire non siamo riusciti ad affrontare che crea un'ombra sui rapporti che non ci permette di esprimerci apertamente è arrivato il momento di trovare il modo di tirarlo fuori e mentre facevo questi ragionamenti che sono la base di questa luna nuova mi è capitato di ascoltare una canzone che mi ha proprio preso come un treno in corsa mi ha veramente l'ho cantata nelle ultime due ore mentalmente perché proprio mi è arrivata dritta perché ha molto a che fare con questa luna nuova ed è Coraline dei Maneskin quando dice dimmi le tue verità la verità non è per tutti ecco già questa è una frase che mi è arrivata addosso come un boomerang la verità non è per tutti non è per tutti perché è scomoda per sua definizione perché è molto più facile fermarsi alle apparenze ai convenevoli alle strette di mano tanto per ai rapporti che proseguono per inerzia benché non abbiano più fuoco dentro a tutto quello che in qualche modo è diventato soltanto superficie e allora è qui che questa luna nuova ci dà proprio un calcio nel sedere per certi versi perché è come se ci volesse dire è no è più a fondo che dobbiamo andare magari ci sono delle verità anche più scomode ma nel momento in cui tu le tiri fuori il momento in cui illumini certi angoli bui con questa luce lì sì che puoi veramente sbloccare certe situazioni e tornare libero perché altra frase che ha molto a che fare con questo periodo la libertà vi renderà liberi e ci sono delle libertà in cui delle verità in questo momento che vanno tirate fuori proprio per riconquistare una certa verità e allora una certa libertà e un'altra frase che mi ha colpito moltissimo non si può andare avanti con il cuore diviso a metà e qui mi è tornato in mente ancora una volta una luna nuova nel segno delle verità se vuoi scomode che portano a scavare andare a fondo perfettamente congiunta a venere e poi nel periodo dello scorpione le foglie secche che cadono la pulizia che va fatta per rinnovarsi e quindi penso che il senso più forte di questa luna sia proprio tutti quei rapporti che stanno lì come foglie secche che ci portano ad avere il cuore diviso a metà che ci portano a vivere di una non verità e sono questi che tra la fine di ottobre e il mese di novembre arriveranno in qualche modo ad un giro di boa ed è una situazione che chiaramente dipende molto da ciò che trova la base perché c'è chi non ha una situazione di questo tipo e quindi questa luna proprio gli passa addosso come un balsamo c'è chi invece ha una situazione in cui prova una cosa e ne esprime un'altra sta con una persona e ne desidera un'altra ha delle situazioni non chiare o non dette sul lavoro allora lì che invece questa luna arriva come l'aratro e smuove nel profondo ma molto nel profondo e poi sono andato a guardare fin qui sto parlando senza fare distinzione di segni poi alla fine qualche riferimento lo farò anche in base ai segni di ciascuno ma quando parlo delle lune nuove delle lune piene ci tengo a parlare a segni unificati perché ci sono delle verità talmente profonde nelle lune nuove e nelle lune piene che sarebbe riduttivo andarle a calare sui singoli segni zodiacali ma se conoscete il vostro tema di nascita andate a vedere cosa c'è al secondo grado dello scorpione in quale casa cade in che aspetti forma con il resto del tema perché questo probabilmente vi svelerà qual è l'area della vostra vita in cui in questo momento c'è bisogno di fare pulizie di fare luce di illuminare ciò che c'è nel buio e di tirar fuori certe verità che potrebbe essere il vostro rapporto con l'esterno la famiglia il lavoro gli amici il rapporto di coppia mille situazioni differenti ma probabilmente se avete una situazione di questo tipo vi dirà anche qual è l'area in cui cade più nello specifico però dicevo sono andato anche a guardarmi il simbolo sabbiano associato al secondo grado dello scorpione che è dove tutto questo accade e ci ho trovato un grado interessante che è molto bilancino nel suo significato perché i vicini aiutano in una festa per la costruzione di una casa in un piccolo villaggio e già qua mi salta all'occhio la cooperazione quindi più persone che lavorano insieme ad un unico scopo e quindi torna il concetto del rapporto e cosa fanno? costruiscono una casa che è un simbolo di appartenenza di protezione di condivisione di intimità di focolare e questo mi dà una luce diversa proprio per rileggere tutto quello che abbiamo appena detto cioè certi rapporti che stanno lì da tempo appesi senza capire che piega devono prendere vanno riletti proprio alla luce di questa cosa cioè mi servono a costruire delle radici che da solo non avrei mi corrispondono fino in fondo in questo caso è il momento di diciamo rinforzarli dargli dargli tutto ciò che meritano perché per lo scorpione ho tutto o niente o dentro o fuori o bianco o nero non ci sono zone grigie al contrario mi ingabbiano mi fanno l'effetto opposto cioè mi tengono bloccati in una casa nella quale non voglio più stare che non è più una protezione ma una gabbia allora qui arriva il momento di trovare la porta la chiave per aprire la porta e uscire da questa gabbia qual è questa chiave è una verità parlarne apertamente io e te non ci corrispondiamo più questo rapporto non ha più una linfa dentro non ha più motivo d'essere nel profondo e quindi non sopprimiamo non comprimiamo il profondo per farlo somigliare alla superficie ma cambiamo la superficie per farla somigliare alle profondità questo almeno è il concetto dello scorpione allora questo è un po' il messaggio di questa luna nuova un po' per tutti e chiaramente agisce in contesti diversi come al solito però andiamo anche a dare due chiavi di lettura per i singoli segni zodiacali ma questo non deve prescindere dal discorso che abbiamo fatto finora e cioè che questa luna nuova parla prevalentemente di verità da tirar fuori di verità da esprimere allora partiamo dallo scorpione che c'è una bella luna nuova in casa nel proprio segno che viene da un mese di ottobre che l'ha visto nelle quinte che l'ha visto in camerino in una fase di attese a volte anche un po' chiuso nella sua bolla la luna nuova nel proprio segno è proprio il fischio d'inizio di un cielo che riparte di un fatto di rimettersi in mostra per cui situazioni che cominciano proposte possibilità nuove possibilità proprio di rompere un guscio e di tornare in diciamo nel pieno del palcoscenico importantissimo in questo momento è abbassare il ponte elevatoio in questo momento lo scorpione siamo ancora a metà ottobre parliamo di qualcosa che accadrà tra una settimana dieci giorni è in una bolla di chiusura e di diffidenza per cui tende a vedere fregature ovunque tende anche a respingere certe situazioni inizia un periodo con questa luna nuova di grandi input di grandi possibilità per il lavoro sul piano interpersonale nei rapporti negli incontri nel cuore bisogna saper buttare giù il ponte elevatoio e saper accogliere tutto questo andiamo avanti alla bilancia luna nuova in seconda casa la casa dei soldi in questo momento la bilancia è alle prese con questioni economiche il comun denominatore è riorganizzare meglio le spese gli sprechi le risorse per concentrarle laddove veramente possono fruttare in questo momento la bilancia ha bisogno di essere più valorizzata ha bisogno di guadagnare di più ha bisogno di far convergere le risorse sui progetti che hanno importanza e quindi è alle prese che non è un tema tipicamente bilancino con preventivi di spesa piani organizzazione di diciamo di tutta quella che è la fattibilità delle cose che sta portando avanti proprio perché è ancora prima del parlare di soldi e di risorse e di finanze per la bilancia in questo momento la concretezza è il tema di fondo cioè basta parlarne bisogna cominciare a farlo basta discuterne rimbocchiamoci le maniche capiamo quanto costa in che tempi lo possiamo fare quanto ci rende se ce lo possiamo permettere se lo vogliamo fare oppure no e questa è una luna nuova che getta proprio una grande luce in questo senso ancora vergine luna nuova in terza casa parlare chiaro pane al pane e vino al vino tirar fuori le proprie verità sul lavoro se ci sono delle situazioni che sono vissute come sbilanciate in questo momento la vergine ha la sensazione sul lavoro che la sua schivania sia il cassonetto differenziato di tutta una serie di grane che le si muovono attorno rimandare la palla al mittente dire questa cosa te ne occupi tu dire il mio ruolo non mi corrisponde fino in fondo non sono sufficientemente valorizzata in termini economici tutto questo ha proprio a che fare con una luna nuova di verità nella terza casa del dialogo e anche in amore se ci sono delle cose che non ci siamo mai detti arriva il momento di dircele ancora leone quarta casa una luna nuova nella casa della casa proprio quindi questioni che riguardano la casa convivenze o non convivenze parliamo di una luna nuova di verità per cui se il rapporto funziona diciamocelo apertamente e cominciamo a pensare anche ad un progetto di vita assieme se il rapporto non funziona e ci sentiamo come dei come si chiamano quelli che condividono la cella in carcere beh allora arriva il momento di parlarne e di pensare anche a un'ipotesi diversa al di là di questo ci possono essere questioni che riguardano i lavori di ristrutturazione che riguardano proprio l'abbellimento degli ambienti ma anche qui i miei ambienti mi devono somigliare ancora ci potrebbero essere delle questioni che riguardano la difesa dei propri spazi che a volte sono invasi da qualcuno perché il tema di fondo del leone in questo periodo è sentirsi padrone di casa della propria vita e quindi essere anche libero di agire in un certo modo ancora il cancro una bellissima luna nuova in quinta casa che significa sancisce anche la fine delle ostilità dopo quattro settimane tra fine settembre e il 23 ottobre in cui ci sono stati attacchi critiche difficoltà insicurezze ansia ansia sul futuro questo ce lo lasciamo alle spalle è una luna nuova che permette di esprimersi di più di sentirsi più sicuri di sé di essere più apprezzati di essere più valorizzati è una luna nuova nella casa del romanticismo e quindi significa anche recuperare terreno col partner o fare dei nuovi incontri è una luna nuova nella casa della fertilità e quindi significa un cielo fertilissimo per tutti i progetti creativi a partire dal desiderio di avere un figlio quindi se lo volete questi giorni di fine ottobre sono fertilissimi se non lo volete occhio andiamo avanti gemelli una bella luna nuova nella sesta casa che permette di riorganizzare di ordinare certe situazioni anche di prendersi un po' più cura di sé e di recuperare energie perché settembre per i gemelli è stato un mese faticosissimo anche sul piano psicofisico ci sono tanti gemelli che mi hanno annullato degli appuntamenti perché stavano a casa in bloccati perché comunque c'erano diciamo anche delle problematiche fisiche cosa della quale non parliamo mai ma in questo caso è proprio particolarmente palese allora questa luna nuova permette proprio di recuperare energie anche di curarsi di più di sé di iniziare una dieta di iscriversi in palestra di darsi di regalarsi dei gesti d'amore toro luna nuova in settima casa la settima casa è quella proprio della definizione dei rapporti in questo momento per il toro o è bianco o è nero o sei dentro o sei fuori al momento in cui bisogna capire cosa possiamo aspettarci l'uno dall'altro cosa siamo cosa non siamo in amore quindi chiarire meglio certe dinamiche nelle relazioni al momento in cui si prendono certe decisioni di fondo in cui si fanno certe scelte per cui è io la vedo sempre così tutti i transiti di opposizione in particolare la luna nuova è come stare davanti a un bivio finché il bivio è lontano ci puoi pensare ci puoi riflettere nel momento in cui il bivio è vicino a quel punto devi mettere la freccia o svolti da una parte o svolti dall'altra altrimenti rischi di andare a sbattere contro le indicazioni segnaletiche arriva la luna nuova in toro e certe scelte vanno prese certe decisioni vanno prese certe questioni sul fronte dei rapporti vanno affrontate ne riparleremo perché sarà un tema importante in tutto il cielo di novembre però già questa luna nuova pone questo tema e quindi riparliamo degli accordi rivediamo certi aspetti riparliamo di alcune questioni di coppia se ce ne sono e il senso il comune denominatore è sempre quello di questa luna nuova e quindi diciamoci le verità ariete luna nuova in ottava casa qui ci lasciamo alle spalle tutte le opposizioni tra fine settembre ottobre che hanno pesato così tanto la necessità di essere sempre sotto esame di dover costantemente rimandare la palla dall'altra parte di dover costantemente difendere il proprio ruolo da critiche e da attacchi ed è un po' una riete che si toglie dei sassolini dalla scarpa che comincia a dire finora sono stato al gioco ho abbozzato ho fatto un buon viso a cattivo gioco adesso però non vi perdono più niente adesso però mi prendo la mia rivincita quindi diciamo che è una riete innanzitutto che si risolleva dopodiché luna nuova in ottava casa può essere importantissima per chiunque abbia bisogno in questo momento di finanziare un'iniziativa per cui mutui prestiti finanziamenti sponsor persone che possano sostenere un progetto diventa molto facile molto più facile facile la parolona però diventa più semplice trovare orecchie disposte ad ascoltare quelli che sono i progetti quelli che sono le idee e anche a sostenerle economicamente pesci una nuova innona casa espansione allargamento degli orizzonti si torna a viaggiare a vedere cose nuove a sperimentare possibilità di allargare la cerchia delle amicizie da cui poi derivano anche nuovi incontri l'infa vitale un romanticismo che si rimette in moto insomma anche per i pesci che comunque a settembre soprattutto ma anche ottobre sono stati un po' penalizzati e qua comincia la ripresa proprio da una luna nuova che parla di altre città di orizzonti in allargamento per cui tutto ciò che vi porta a viaggiare o a sperimentarvi nuovi ruoli o situazioni tenetelo d'occhio perché può essere l'inizio di qualcosa di importante acquario luna nuova in decima casa esami discussione della tesi consegnare un progetto a cui si è lavorato da molto è un po' un momento di collaudo di tante iniziative di tanti progetti di tanto impegno dei mesi passati quindi c'è un po' la sensazione di stare sotto esame di essere osservati di avere paura del voto ma contemporaneamente è quell'esame che dà un senso a tutto ciò che è venuto prima è come il debutto di un attore è chiaro che nessuno gli può dire se andrà bene se andrà male o quanti applausi riceverà ma è questo a dare un senso a tutta la preparazione a tutte le prove a tutte le prove di memoria fatte prima per cui per l'acquario inizia una fase di frutti di soddisfazioni forse anche di promozioni di crescita sul lavoro ma contemporaneamente anche in una fase in cui si deve giocare bene le sue carte per me personalmente è il mese in cui esce il libro ed era luna nuova che dà proprio inizio a tutto questo è chiaro che per chi ci ha lavorato per tanti mesi prima è un banco di prova fondamentale ma è anche la soddisfazione più grande che si possa immaginare perché la decima casa e questo è uno dei paradossi dell'astrologia da una parte è una quadratura e quindi è impegnativa ma dall'altra è un transito nella decima casa che è quella della carriera e della crescita personale e professionale e quindi è un trampolino di lancio sei sul trampolino ti devi tuffare bene questo è un po' senso andiamo ancora avanti capricorno luna nuova in undicesima casa innanzitutto ci lasciamo alle spalle i transiti di fine settembre di ottobre che sono stati estremamente faticosi anche stamattina ho messo il capricorno all'ultimo posto della classifica di citofonare ai due perché obiettivamente è un cielo impegnativo è un cielo che può vedere anche delle critiche degli attacchi o delle situazioni in cui il capricorno si sente avversato tutto questo con questa luna nuova ce lo lasciamo alle spalle e quindi apre nuovi orizzonti nuove amicizie importantissime nuove alleanze nuove forme di collaborazione che possono portare anche a fare diciamo molto molto di più quindi per il capricorno tra il 24 il 25 il 26 ottobre importantissime le nuove conoscenze perché possono aprire nuove porte o comunque nuove prospettive andiamo ancora avanti troviamo il sagittario luna nuova in dodicesima casa il sagittario è in una sorta di anticamera è in una sorta di camerino d'attesa sta preparando tutta una serie di nuove situazioni che metterà in campo un po' più avanti in questa fase sono fondamentali le intuizioni sono fondamentali le idee in certi casi sono fondamentali anche i sogni dico al sagittario prestate attenzione a ciò che sognate nei giorni di questa luna nuova perché certe volte vi possono dare dei suggerimenti e degli assist e farvi capire bene delle cose che di giorno capite meno bene per cui è sicuramente qui il discorso si allargherebbe a dismisura e ne parliamo la settimana prossima quando parliamo dei transiti di novembre però comunque sia alcune idee alcune intuizioni alcune ispirazioni per folli che possano sembrare in questo momento possono rappresentare l'uovo di colombo la chiave di volta per risolvere certe situazioni di blocco che vi portate appresso da tempo e per il momento fermiamoci qui però tutti questi temi li troverete più allargati più sviluppati e più espansi la settimana prossima quando parleremo del cielo di novembre segno per segno e delle nuove tappe che ciascun segno percorrerà nelle prossime settimane io vi ringrazio per essere stati insieme non mi resta che salutarvi darvi appuntamento la settimana prossima ricordarvi ancora una volta di iscrivervi a questo canale se vi piace di attivare la campanella per non perdere nessuna delle nuove uscite e poi soprattutto buona settimana a tutti e buona luna nuova in scorpione a tutti o se poi dovete leggere l'oroscopo settimanale lo trovate al link qui sopra grazie grazie a tutti grazie a tutti